Nuovo colpo alla famiglia mafiosa del Borgo Vecchio a Palermo. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 indagati accusati a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, furti, ricettazione e distorsione, reati aggravati dal metodo mafioso e di sfruttamento della prostituzione. Per uno è stato disposto il carcere, per 12 domiciliari e per due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine costituisce il prosieguo del blitz che ad ottobre aveva portato al fermo del presunto nuovo reggente della famiglia mafiosa, Angelo Monti, che secondo i carabinieri aveva riorganizzato il clan affidando posizioni direttive al fratello Girolamo, a Giuseppe Gambino, Salvatore Guarino e Iari Massimiliano Ingarao. Molti imprenditori si sono ribellati al pizzo e hanno collaborato con le autorità per far arrestare gli estortori. Il clan controlla le feste rionali, lo spaccio, i furti di veicoli e anche una parte dei gruppi di ultras del Palermo Calcio. Grazie a tutti.